L'idea è quella di promuovere un tour itinerante nella Val di Chiana, inizialmente come prima idea, come lancio, per mettere in connessione i nostri musei o i siti della cultura, per in qualche modo cercare di collegare al meglio quelli che sono i sette comuni dell'ambito turistico Val di Chiana-Retina, che adesso è stato costituito dalla regione toscana. Un viaggio alla scoperta dei musei della Val di Chiana, si tratta della primo Christmas Tour che partirà il prossimo 29 dicembre. ION ha sempre delle bellissime idee, molto propositive e ovviamente quando si tratta di cultura, di musei, per tutto quello che riguarda l'aspetto culturale, insomma siamo ben felici di aderire e dare il nostro supporto. L'iniziativa è nata con l'intento di promuovere durante il periodo natalizio la visita ad alcuni siti e musei della Val di Chiana. In questo progetto il comune capofila di Cortona comunque crea una rete all'interno dell'ambito turistico, quindi i comuni aderenti sono quelli, anche una parte dell'ambito turistico, credo che dovremmo sempre di più fare i progetti in rete. Il tour con partenza in autobus da Cortona è principalmente rivolto ai turisti presenti in Toscana che potranno così visitare il Parco archeologico del Sodo, il Museo Comunale di Lucignano ed il Museo del Cassero di Monte San Savino. È la dimostrazione anche che la cultura è giusto nel nostro territorio val di Chiana riuscire a promuoverla proprio con queste iniziative. Tra le tappe è presente anche il Val di Chiana Outlet Village. Abbiamo messo a disposizione anche il nostro village come una tappa, una sosta tecnica di svago in questo caso, che però è in grado appunto di ospitare questi tour che hanno una finalità culturale ma anche di promozione turistica.